ciao a tutti amici di crypto jam e benvenuti a un nuovo video oggi volevo vedere con voi uno dei temi che a me piace di più e in cui ho investito ormai più di un anno siamo ed è Gala che ha lanciato il Gala music volevo parlare un po di Gala music so che ne ho parlato in alcune live non ho mai fatto un video esattamente su Gala music e quindi volevo parlare un po di questo progetto e di cosa penso può essere il prossimo progetto da comprare per fare in compassivo per fare diciamo un 100x un 10x vedremo tutte queste cose intanto cominciamo dal classico mercato che analizziamo tutti i giorni come vediamo il Nasdaq ha avuto una ripresa veramente grossa negli ultimi giorni da quando siamo arrivati al nostro bottom che era il nostro target principale portare Gala nasdaq fino a questo punto da lì c'è stato un ingolfo in candle che poi ha dato il via a questo reversal c'è stata la rottura del channel e la rottura del channel è stata confermata anche dalla 20 e mei che è stata superata e così via al momento ci troviamo in una delle zone più calde del chart che sono la precedente sub la precedente area di resistenza scusate supporto esistenza e in più ci troviamo tra la 200 e la 50 e mei quelle giornaliere che sono molto molto importanti da superare se vogliamo rivedere una ripresa quello che io farei per in caso ci fosse una ripresa aspetterei intanto la conferma della ripresa quindi noi in ogni caso siamo ancora in un bearish trend ok perché stiamo ancora facendo dei lower low qua lower low e l'unico modo per confermarlo sarebbe una cosa del genere in cui facciamo dei higher high dei higher low e cose così quindi confermare questo riportare il prezzo al di sopra della 200 e mei confermare un pattern rialzista quindi avere almeno un piccolo channel anche se non un daily ma comunque sulle quattro ore bello rialzista che si vede e poi entrare in quel channel con un rintracciamento quindi usare i fibonacci per fare un rintracciamento e vedere quando poter rientrare nei channel ovviamente tutte queste cose sono spiegate nel corso di trading se vi interessa se vi interessa se non vi interessa niente anche per i giocatori a lungo termine per quanto riguarda bitcoin vediamo che bitcoin invece è rimasto stabile vicino alla zona disegnata ha fatto dei piccoli bullish trend anche qua guardate qui ha fatto prima questa bullish flag poi adesso ne sta facendo un'altra che potrebbe riportare il prezzo al di sopra vediamo perché ancora non ha rotto le due e mei neanche sull'orario quindi questi sono grafici orari quindi non fanno grandissimi pump invece sul daily come vediamo sul daily se andiamo invece a esplorare il daily siamo ancora perfettamente questa linea rossa che vedete è una resistenza che è un individuato su time frame più bassi per quello il prezzo ci sbatte parecchio contro però come vediamo questa linea qui individuato ormai quando è stato primo trade che è cominciato qui con questa hammer candle è stato il 2 febbraio quindi siamo già più di un mese che abbiamo individuato questa trend line su cui penso che chiunque abbia visto sto video che sia nel discord poteva tranquillamente capire che erano ottime zone per fare dei swing trade swing trade vuol dire da fare dei veloci trade di 2-3 giorni anche una settimana e come vediamo l'incanalamento ancora continua adesso siamo qua su questa resistenza probabilmente potremo continuare ancora per un posta di fatto che la rottura di questa zona come abbiamo visto la sua importanza a questo momento è altissima potrebbe far riprendere il prezzo per andare verso i 50.000 a questo punto quindi il target dei 50.000 non è più così lontano e poi volevo ricordare una cosa un po' a tutti quanti quando ho cominciato a fare le analisi a dicembre novembre questa zona qui era una zona in cui noi abbiamo individuato un sacco di bearish trend abbiamo fatto anche degli short fino ai 50.000 poi avevamo detto che la rottura di questo trend se vi ricordate avrebbe riportato bitcoin a 40.000 a 41.000 cioè questa zona qui ok una volta che bitcoin aveva diciamo rotto questa zona ed era entrato in questo punto io avevo cominciato a dire che avrei cominciato ad accumulare un po' alcuni mi hanno detto anche ora dicono si lamentano oh ma io ho comprato bitcoin a 44.000 perché me l'hai detto tu io non ho detto niente io ho detto soltanto che io comincerò un pack quando penso che bitcoin stia cominciando una discesa a ribasso questo cosa vuol dire che i miei pack per chi ormai mi segue da tanto cominciano da poco e vanno ad aumentare piano piano che si scende quindi io ho accumulato un po' qua ho preso 33.000 perché si ricorda nel video ero pronto a riprenderlo a 30.000 in questa zona ed ero pronto a riprenderlo a 25.000 ovviamente più vado giù più si alza il mio pack questo cosa vuol dire che io in questo momento a prescindere che io bitcoin ci sono dentro comunque dal 2020 quindi io comunque anche se fossi entrato in bitcoin solo in questi due punti io comunque in quest'ora sarei comunque in profitto perché quello che io faccio qua il pack che ho fatto qua è molto più grande di quello che ho fatto qua e questo io lo sto insegnando anche nel mio corso di trading come fare pack in maniera più attiva e non in maniera passiva perché tanti fanno il pack e dicono ok metto 100 euro ogni settimana per i prossimi due anni è buonissima come cosa dei grandissimi investitori lo fanno gente molto professionale però noi visto che non abbiamo account a miliardi e vogliamo massimizzare ok in breve termine anche quindi in medio lungo termine bisogna fare un pack attivo quindi un pack attivo guardando gli indicatori sapere quando il prezzo si stende troppo a ribasso cominciare ad accumulare sempre di più più si stende a ribasso quindi più vediamo gli indicatori che sono estesi nella zona più bassa del prezzo più noi aumentiamo il nostro pack quindi detto questo per il momento questa è l'analisi di come vedo bitcoin può anche rompere a ribasso rompendo a ribasso non darebbe altro che un'occasione in più per accumulare prezzi più bassi sicuramente ed è quello che io dico sempre io in questo momento preferisco che bitcoin rimanga in quelle zone perché sto trovando ottimi progetti che sto anche condividendo con la community sto facendo ottimi accumuli perché le altcoin stanno sanguinando quindi per me è ottimo per raccogliere alcune altcoin che mi piacciono e quindi è un ottimo momento sicuramente per un investitore ora passiamo per quanto riguarda il Gala Game allora Gala Game come sapete ha lanciato il Gala Music da poco io ho fatto un video anche ieri in cui ho fatto vedere il box di Snoop Dogg che sappiamo Snoop Dogg è quello che ha fatto una collaborazione è stato il primo diciamo il pioniere diciamo a fare la collaborazione con Gala Music e ha lanciato questo box che all'interno c'erano delle tracce musicali e quindi queste sono le tracce musicali che voi vedete che al momento non possono essere suonate assolutamente perché comunque sono ancora in fase di lancio quindi ancora non esistono in un certo senso come vedete questa è quella originale dell'album che ha lanciato quindi questa è la traccia originale non so perché non caricano questa è la traccia originale dell'album che hanno lanciato e in più c'erano delle sorprese dentro il box per esempio io ho trovato uno di questi io ne avevo già comprato un altro Common ho trovato uno di questi qua che è un gioco che sta per lanciare ne ho parlato in altri video si chiama Legacy è un gioco tipo Sims tipo Townstar però tipo di business molto buono c'erano altri NFT dentro quindi il valore di quello che ho apparto io sicuramente era molto buono non tutti hanno ricevuto questi tipi di NFT però sicuramente ottimo parliamo adesso dei nodi vediamo qua che ci sono anche dei nodi che hanno fatto la vendita che io ovviamente avevo già avvisato i ragazzi sul gruppo chi ha potuto l'ha comprato molti hanno aspettato adesso stanno un po' pentendo perché? perché sappiamo tutti che l'ultima volta che Gala ha lanciato un nodo ha fatto veramente bene cioè io ho un nodo sono un founder nod di Gala e ogni giorno io ricevo una cosa tra i peccine 350 e i 400 Gala questo è l'anno scorso ne ricevevo tra i 2.000 e i 1.500 al giorno questo giornaliero ok? perché contribuisco alla rete e il Gala e il nodo è passato che valeva 1.000-2.000 dollari io l'ho comprato quando era già 6-7.000 dollari è passato a valere più di 100.000 dollari quindi l'ultima volta che Gala ha fatto un nodo che ha fatto bene ha fatto veramente dei gran numeri per chi ha comprato in anticipo ha fatto le sue ricerche ha preso i suoi rischi quindi vediamo che intanto loro hanno questa collaborazione con Snoop Dogg con la Death Row Records che è la casa discografica che ha comprato Snoop Dogg che è stata la prima in cui lui ha registrato i suoi dischi se non sbaglio e hanno creato questo ecosistema che mira a fare una distribuzione equa diciamo delle entrate delle canzoni quindi come funziona? fate finta che voi avete siete Spotify facciamo finta Spotify Spotify praticamente è un server decentralizzato quindi cosa succede? Spotify si tiene quasi il 96% di tutti gli introiti dà pochi centesimi agli artisti per suonare i loro dischi continuamente quindi guardate su Spotify e in più voi pagate una membership annuale o mensile per poter entrare dentro Spotify cioè per poter sentire le canzoni su Spotify quello che fa Gala Music è prendere una cosa come Spotify e renderla decentralizzata cioè il server invece di essere mantenuto da un unico ente che controlla tutto e mantenuto dalla decentralizzazione della rete quindi da gente come me voi e altri ragazzi o altra gente o altre persone famiglie in giro per il mondo che comprano i nodi quindi questi nodi saranno dei software che installi sul computer e grazie a questi software sarai capace di mantenere la rete di Gala Music quindi cosa succede questi nodi fungeranno un po' come jukebox quindi voi avrete gli NFT quindi gli artisti faranno degli NFT come canzoni quindi le canzoni non saranno più registrate e basta ma saranno proprio fatte come NFT ne venderanno un tot quindi chi per esempio ama Celine Dion Celine Dion fa un album ma lo fa in NFT vende questo album a 25.000 dei suoi fan quindi i suoi fan detengono l'album detengono anche l'NFT quindi la canzone come se avessero comprato la canzone stessa o diritti parte dei diritti della canzone ogni volta che si suona l'album di Celine Dion su Gala Music quindi su uno dei nodi si sceglie un nodo perché ovviamente penso che sarà un sistema in cui bisognerà scegliere un nodo per suonare l'album quindi il nodo scelto riceverà una percentuale di distribuzione chi detiene gli NFT di quella canzone di quell'artista riceverà una parte della distribuzione e chi invece è online con i suoi nodi quindi tutti quelli che hanno i nodi online riceveranno parte della distribuzione se non sbaglio male voglio vedere un attimo qual è la distribuzione un secondo allora l'ho trovata qua la distribuzione come l'avevo andata poi può essere che cambi comunque il 50% va all'artista il 35% va alla gente che deviene gli NFT online quindi la distribuzione va a tutti quelli che hanno comprato gli NFT per esempio di Celine Dion in questo caso il 10% va a tutti i nodi del network quindi tutti quelli che sono online e hanno il nodo online e il 5% va a quel nodo specifico o a quel server comunque che sta suonando l'NFT quindi questa è la distribuzione la distribuzione sarà un 10 centesimi per ogni canzone suonata quindi 5 centesimi andando all'artista il 35% quindi bla 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 quindi però saranno 10 centesimi non di Gala Token ma di Gala Music Token che sarà un altro token per mantenere questo ecosistema e saranno sempre 10 centesimi quindi questo cosa vuol dire che se il token vale 10 centesimi verrà rilasciato un token verrà minato un token se il token vale 5 centesimi verranno minati due token quindi saranno sempre 10 centesimi ma saranno tipo backed by il token stesso quindi è un po' il sistema diciamo di USDT e delle stablecoin comunque questa è la distribuzione e secondo me questo è un ottimo modo perché molti artisti si lamentano del fatto che non ricevono l'equa ricompensa dalle case discografiche o da queste compagnie come Spotify o non lo so la Apple o quelli lì che suonano le loro canzoni e gli danno praticamente le briciole in questo caso riceverebbero il 50% quindi io ci vedo molti artisti venire in questo ecosistema perché uno possono rendere partecipi fan direttamente tramite gli NFT e due i fan possono guadagnare grazie a questo gli artisti possono guadagnare molto di più confronto a quanto invece vendevano le loro canzoni su Spotify quindi tutti ne hanno un beneficio poi non so che chi ascolta ma probabilmente c'è il Listen to Earn chi ascolterà sicuramente le canzoni potrà guadagnare quindi tutti guadagneranno invece di Spotify che guadagna il 96% e si tiene tutto in questo modo in maniera decentralizzata che è lo scopo dei sistemi decentralizzati è dividere questo bene che già esiste perché questi soldi non è che vengono dal nulla questi soldi già esistono nel sistema diciamo della musica e diciamo di queste case discografiche però viene distribuita in maniera più equa quindi non c'è più il gatto col pancione che mangia tutto ma c'è gli artisti che mangiano di più ci sono quelli che suonano quelli che mantengono la rete decentralizzata quindi il Gala Music Ecosystem e ci sono addirittura i fan che ascoltano i fan che comprano i nodi che contribuiscono e ricevono una fetta di questo mercato quindi tutti guadagnano e tutti sono felici e secondo me questo è il futuro e l'intento di Gala Music comunque ragazzi questo è tutto per quanto riguarda Gala Music spero di avervi chiarito un po' le idee su questo ecosistema di come dovrebbe funzionare cos'è l'intento se volete scoprire altri progetti simili che noi ogni giorno andiamo a esplorare ci sono dei ragazzi super preparati nel Discord che ovviamente aiutano ogni giorno a cercare nuovi pre-sale nuovi nodi nuove cose del genere oppure partecipare alle nostre live attivamente iscrivetevi al Discord fatemi sapere cosa ne pensate se volete anche partecipare magari alla parte di trading potete prendere un corso o anche il corso di trading se volete e abbiamo anche la sala dove noi parliamo di trading se ci scambiamo idee i ragazzi mi mandano magari il loro chart le loro preoccupazioni li do una mano quindi stiamo creando veramente una bella community se volete farne parte parte scusate e io sono sempre attivo lì se avete bisogno di qualunque cosa e non sarete mai da soli sicuramente per il resto è tutto e ci vediamo al prossimo video grazie a tutti